Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. La vicenda del Qatar ci insegna tante cose, come già abbiamo detto, e ce n'è una su cui voglio richiamare celermente la vostra attenzione. L'ideologia droit de l'homiste, come dicono in Francia, l'ideologia dei diritti umani, è quella a cui siamo abituati segnatamente dal 1989 in poi, è quella che permette alla civiltà del dollaro di camuffare le proprie guerre imperialistiche sotto copertura di guerre umanitarie per i diritti umani, in una chiara dimensione orwelliana per cui la guerra imperialistica diventa missione di pace, l'abbattimento di popoli resistenti all'imperialismo diventa operazione di potenziamento, di peace enforcing e così via. Nell'ordine del discorso orwelliano il rapporto tra parole e cose si inverte, così i colpi di stato finanziari diventano i governi tecnici, i bombardamenti imperialistici diventano le missioni di pace e così via. Ora, il Qatar ci insegna tuttavia che evidentemente non basta che ci siano violazioni di diritti perché ci sia l'interventismo umanitario, da che il Qatar, comunque lo si voglia interpretare, non è certo un paradiso di diritti e di libertà, al contrario, secondo le stesse grammatiche made in USA sarebbe stato opportuno, secondo quelle grammatiche, un intervento militare di peacekeeping e di esportazione dei diritti come ce ne sono stati tanti, ad esempio in Libia, in Iraq. Perché lì non c'è stato? Perché non solo non c'è stato un interventismo umanitario in quel luogo, ma anzi si sono fatti affari, si sono fatti mondiali. C'è stato un silenzio generale rispetto a un paese che quanto a diritti umani certamente non risplende. Ma lo stesso si potrebbe dire per l'Arabia Saudita, che è un paese tra i più feroci nella repressione dei diritti umani e che tuttavia mai viene menzionato come stato canaglia o come paese nel quale bisogna esportare diritti umani. Questo lo dico ovviamente non perché sostengo che si debba fare una guerra umanitaria, ecco l'ossimoro, anche in Qatar o in Arabia Saudita. Tutto al contrario. Lo dico per mostrare come le guerre che sono state fatte in nome dei diritti umani erano in realtà guerre imperialistiche che non si sarebbero dovute fare. Perché di fatto la reazione che viene prodotta contro la violazione dei diritti umani finisce per essere essa stessa una forma di violenza estrema. Come abbiamo visto, come abbiamo appreso in questi anni in cui in nome dei diritti umani e dell'esportazione di democrazia si sono purtroppo prodotte delle vere e proprie sciagure, delle vere e proprie tragedie presso i popoli che sono stati, per così dire, beneficiari di questi diritti umani e che in realtà hanno ricevuto bombe per quanto intelligenti e democratiche, hanno ricevuto embarghi per quanto umanitari, hanno ricevuto missili per quanto democratici. Ecco perché bisogna smascherare più che mai l'ideologia dei diritti umani. I diritti umani sono una cosa ottima, ma l'ideologia dei diritti umani è una cosa pessima perché serve soltanto a coprire a modifoglia di fico l'imperialismo della civiltà del dollaro.